Dopo la mattina, con tutti parlando della plastica e dell'acquinamento e dopo una vita di navigare barca di plastica con vele di carbonio, mi chiedo che sto facendo qua. Però è sempre un piacere di essere qui in Italia e contro l'avviso di Maro, che è l'executive producer di questo evento, proverò di parlare in italiano perché è stato sempre il modo mio in Italia di essere con voi. Quindi brevemente farò un recapito sulla mia vita in mare, iniziando di giovane, la vita competitiva di quale qualche italiano ha seguito come Copa America e poi parlerò della grande avventura che ho fatto girando il mondo due volte, che veramente è la parte della vella che mi ha segnato di più. A otto anni ho iniziato totalmente per caso, nessuno nella mia famiglia navigava, era un compagno di scuola, un primario, che mi ha invitato a fare un po' di barca, una o due volte così, e mio padre ha visto che mi è piaciuto andare in barca e mi ha costruito questa barca nel nostro garage a San Francisco. Andando avanti negli anni ho navigato vari tipi di barche, prendendo tante esperienze, che è stato un po' il segno della mia carriera, anche di professionalista ho fatto sia Copa America, sia sia le Olimpidi, sia il giro al mondo, invece di essere focalizzata solo su un tipo di navigazione. Questa barca qua si chiama lo Star, è veramente il mio amore, ho iniziato a navigare su Star esattamente 40 anni fa e lo faccio ancora oggi, ottengo lo Star a Miami e faccio le regate invernali. invernali, ho fatto la prima Copa America con Tom Blackholler, un grande che conosce Riccardo benissimo, purtroppo Tom manca, ha mancato a 49 anni, e questa barca si chiamava Defender, in 83, lo stesso anno della prima azzura a Newport, Rhode Island, ho fatto gli Olimpidi di 84, e anche vent'anni dopo ho fatto le Olimpidi di 2004 a Atene, nello Star sempre. Dopo un Sardegna Cup in 84 con una barca che si chiamava Nitissima, eravamo la prima barca classificata, e avevo 25 anni con la fiducia di un Herman Frères che mi ha messo in questa posizione, mi ha chiesto di essere lo skipper della barca e mi ricordo di sentire un po' la paura di prendere questa responsabilità. Ma l'ho preso, abbiamo fatto bene e sono stato riconosciuto di parecchi italiani, tra loro Landolfi, Del Bono e Gardini. Questo è Tom Blackholler che ne abbiamo fatto in seconda Copa America insieme a Fremantle, che è la Copa America alla quale che Yacht Club Costas Amaralda fu challenger record, quindi ho organizzato tutto per il sfidante e la Louis Vuitton Cup. A 28 anni ho vinto il Mondiale dello Star e allo stesso anno ho fatto il primo figlio, Danny, e il bello di tutto questo è che quest'anno ho fatto prodieri per Danny al Mondiale di Danemark. Lo stesso 1988 ho vinto anche il Mondiale di Maxi con Raoul. Anche con Raoul è stata un'opportunità, ma anche un senso di paura. In questi anni della mia vita ho sempre stato presentato un'opportunità, ho sentito sempre il paura che va con una grande responsabilità, mi ho sempre preso e ho sempre trovato il modo di agire e di riuscire e questo mi ha fatto andare lontano. Raoul ha fatto delle cose alla grande, come sappiamo tutti, e questa sfida, poi voglio dire che Andrea Mura non so se sia ancora qua, però era la randista di Muro di Venezia, ho visto prima Andrea, sei qui Andrea? Andrea. Magari partito. Andrea era un randista di Sardegna e ora fa regatta in solitario. Comunque questa sfida, come sapete tutti, magari non tutti, ma molti di voi avete seguito la Coppa dell'America di Muro di Venezia. È stata una sfida con grande passione, soprattutto la passione di Raoul e avendo un grande leader del genere è molto valorevole. Tutti eravamo molto insieme, molto unite e alla fine abbiamo fatto un gran risultato. ho fatto anche la regatta di Swan, questo è un Swan Cup che ho fatto tattico per Leonardo Ferragamo, che so che è un ambassador per One Ocean, anche non so se Leonardo è ancora qua, è già arrivato, so che arriverà stasera. E anche ho fatto delle gare con Parini e so che Parini fa anche partner di One Ocean. Ultimamente, diciamo, dopo la mia carriera a Coppa America ho fatto regatta di Parini. Ho fatto Middle Sea Race girando Stromboli, ho fatto anche Dow a Dubai, TP52 a Cagliari. E diventando un po' matto a 50 anni, sai, crisi della middle age. Per un motivo o un altro, all'inizio della sfida di Artemis, prima che sapevamo che facciamo catamaran, no? Abbiamo fatto un series che si chiamava Louis Vuitton Trophy. Terry Hutchinson voleva timonare e quindi io ho fatto Stratego. Io Stratego su queste barche qui, quando c'è vento leggero devi andare su a 25 metri e chiamare il vento. E quindi a 50 anni ho fatto questo ruolo, questa stupidaggine a Nizza. Però fa parte di una carriera all around. Ho guidato un giorno questa bestia che si chiama Hidropter in San Francisco per capire il foiling. 47 nodi. RC44 e i catamarani, questo è ancora il Parini, TP52. Allora la somma di questa fase, questa parte della mia vita è che era una vita e una competizione di centimetri e secondi. In 1996 qualcuno è venuto a me e mi ha chiesto, quindi dopo il muro di Venezia e dopo che ho fatto il timoniere di Stars and Stripes per Dennis Conner, un'altra grande esperienza, qualcuno è venuto a me e mi ha chiesto di fare lo skipper per il giro del mondo. E sarebbe come un pilota Formula 1 a fare pari Dakar. È completamente diverso. Sì, è una macchina, ma sono macchine completamente diverse, con mentalità completamente diverse, strategie, tattica. E ho detto no la prima volta. Mi hanno insistito, mi hanno venuto un mese dopo ancora e finalmente ho deciso di farlo. E sono come la decisione di venire a fare il muro di Venezia, che non era chiaro, era difficile per un americano venire a vivere in Italia, cambiare il paese. Come quella decisione, questa decisione è stata anche molto buona per la mia vita, non solo per la parte competitiva. Mi ha inricchito molto queste due esperienze e quindi parlerò per i prossimi 8-10 minuti di cosa mi ha dato il mare. E veramente il mare mi ha dato tanto girando il mondo. Credo qui abbiamo un video, un piccolo video per darti l'idea di cos'è girando il globo un milio alla volta. Grazie a tutti. 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 E' una vita di matti, sicuramente. E si va così anche quando chiudono le luci. Allora siamo partiti di questa sfida e ho preso con me nove ragazzi di fiducia. Avevo un anno e mezzo di allenarmi per affrontare questa avventura. e avevamo due barche. Andrea, Andrea Mura. Abbiamo cercato di capire qualche avventaggio che potevamo avere perché tutti gli altri concorrenti erano esperti di questo tipo di regate con tanta esperienza. e noi abbiamo affrontato la regata nel nostro modo dei giochi olimpi e la Coppa America. Allora, girando il mondo era, la mentalità era sopravvivere i tappi quando arrivi al porto se diventa ubriaco per una settimana e dopo si guarda un po' la barca per vedere se qualcosa è rotto. Noi abbiamo giorno per giorno, anche prima della tappa, andato in palestra, abbiamo studiato molto le velle, abbiamo anche sviluppato una vella tutta nuova che si chiamava Code Zero. e quindi abbiamo cercato, anche in questo ambiente strano, il nostro avvantaggio e abbiamo vinto la prima tappa, tutto per sorpresa, sicuramente la sorpresa agli altri. In un bordo, diciamo, tra due isli da fronte a Brazil, che sono 600 miglia a parte, ho virato 25 volte. Normalmente, in giro al mondo, si vira una volta ogni giorno, magari, una virata o una strambata al giorno. Io e Grant Dalton erano in un'altra barca, ha virato tre volte in quel stesso bordo di 600 miglia. Di virare queste barche è un lavoro per tutti a bordo per 20 minuti, perché devi scaricare tutta la roba di una parte all'altra parte. E chi dorme non dorme. Quindi nessuno ha dormito niente per quei 24 ore e abbiamo guardato, guadagnato tre miglia in 24 ore. Però quei tre miglia ha contato molto perché eravamo nella barca più al sud e quindi abbiamo preso il vento prima per andare a Cape Town e abbiamo vinto la tappa per 24 ore. Ti dico questo solo per farti capire la mentalità in quale siamo affrontati questa competizione. Nella seconda tappa, che era di Cape Town a Fremantle, io avevo sempre i piedi schiacciati a fondo. E ho imparato nel senso difficile che non è così che si va nel mare. Quindi avevo la spinnaker più grande possibile, la randa senza i mani e andavamo alla manetta, si dice, finché abbiamo spaccato tutto. E ho quasi ammazzato uno che era veramente serio. Quindi arrivando a Fremantle ho fatto un'unione la mattina dopo che siamo arrivati, un po' criticando tutti gli errori che abbiamo fatto, iniziando con me stesso. E io ho preso la più grande responsabilità per forzare la barca. E da questo abbiamo messo in tasca la lista che abbiamo creato. E la sera prima del quinto tappa, che era da New Zealand a Rio di Janeiro, ho fatto una cena, ho tirato fuori la lista, letto tutto. E abbiamo affrontato la quinta tappa molto più tranquilla, con molto più rispetto per il mare, come diceva prima Davide. E questa era una grande lezione per me, di rispettare il mare, di essere pronto per affrontare il peggio. E sì, il gioco girando il mondo è di andare a 97% di massima velocità, 100% del tempo, non di andare a 100% della velocità per 20% del tempo e poi spaccare tutto. Però questa non è la mentalità di un pilota di Formula 1 o un skipper della Coppa America. E quindi questa trasformazione ho dovuto fare, il più grosso soddisfazione per me è di aver fatela. E andando avanti abbiamo vinto il giro del mondo. È stata una grossissima esperienza sicuramente. Qualche foto della vita a bordo. Poi, come un stupido, ho fatto una seconda volta, però questo era troppo bello. Mi ha invitato a un pranzo a Burbank, California, Hollywood, questi del Disney. E mi hanno chiesto, mi hanno detto, guarda, faremo le t-shirts così, possiamo mettere questo sulle velle, e vogliamo verniciare la barca così, e cosa ne pensi? E ho detto, avete già, questo era sei mesi dal giorno, dall'inizio della gara. Ho detto, avete la progettista? No. Avete la cantina? No. Ho detto, sai che ci vuole otto mesi per costruire una barca del genere? Ah, no, ma noi vogliamo fare le t-shirts così, e in un modo o in un altro l'abbiamo fatto. Abbiamo spaccato la barca sulla prima tappa, però abbiamo recuperato. Un'altra bella storia, abbiamo finito il secondo, non male. Io ho girato per la terza volta la Cape Horn. Grande esperienza. E quindi la somma di questa parte della mia vita è che mi ha dato delle lezioni della vita molto importanti. La fiducia in sé, la capacità di capire, di superare dei momenti molto difficili, non ti ho raccontato, però puoi immaginare con 40 nodi di vento, con la neve che avete visto, onda di 10 metri, non è per niente semplice. Nonostante che abbiamo vinto, abbiamo avuto dei momenti molto difficili. E tutta questa ricchezza volevo passare ai figli. E questo regalo che il mare mi ha dato. E quindi in 2008 ho comprato questa barca di 50 piedi e con sei ragazzi, più un amico mio, per sicurezza, o lui o io erano in coperta sempre, sicuramente durante la notte, siamo andati alle Hawaii in una regata per questa grande avventura con le mie due figli e i quattro amici loro del liceo. E' così la vita, no? Dobbiamo, in English we say pass it forward. We need to pay it, pay it forward. E quindi sono in quella fase della mia vita adesso, con le mie. Adesso, due anni fa, ho iniziato a fare Danny, il mio figlio, come prodiere per introduire la star. E adesso io faccio prodiere per lui. Sono sul board di qualche youth program a San Francisco. e questa è una foto del mio padre e io con la barca che lui ha costruito in 68, che ora vive nel museo della Hall of Fame in Annapolis, Maryland. Chiudo. Grazie. Per chiudere, anche quando sono stato qui tutta la giornata pensando della mia barca di plastica e le vele di carbonio. Poi ho pensato al mio speech, che deve raccontare la bellezza delle barche navigando. E oggi stiamo parlando di qualcosa di molto serio. Lo sento, l'ho visto io in prima persona, la plastica. e quindi ho tanto rispetto per questa faccenda che l'Hack Club Costa Semana sta mettendo in piedi. Voglio partecipare, voglio aiutare. Credo tocca a ognuno di noi cittadini di fare il nostro pezzo, il nostro piccolo, perché così ci vuole lavorare in squadra. Questa è un grosso sfida e dobbiamo tutti lavorare insieme. Quindi sono contento di aver venuto, sono contento di aver ascoltato e grazie per l'accoglienza. Grazie.